Ciao a tutti, sono Giorgio della Casa, divulgatore scientifico e storico dell'arte. Ci troviamo nella centrale piazza di San Lorenzo e oggi andremo alla scoperta di un antico palazzo nobiliare, uno tra i più importanti probabilmente della seconda metà del Cinquecento a Genova, situato in una piazza comunemente nota a tutti come Piazza Invrea. Probabilmente però il toponimo più comune, più antico con cui è conosciuta la piazza è Piazza Squarciafico, in virtù proprio della presenza di questo palazzo che per la prima volta in queste occasioni apre i suoi spazi interni, ovvero Palazzo Squarciafico. Il palazzo venne edificato tra il 1565 e il 1566 per volontà di Stefano Squarciafico, un nobile appartenente ad una tra le principali famiglie genovesi del tempo, principali e storiche. Pensate bene che alcuni membri della famiglia Squarciafico sono attestati in Spagna nella seconda metà del Trecento, dediti al commercio di grano. Nei secoli successivi poi gli Squarciafico fornirono alla Repubblica di Genova una serie di doggi letterati e anche ammiragli del mare. Ebbene, una famiglia centrale nelle logiche di Genova che si affidò per la decorazione della propria facciata e dei propri interni a un'altrettanta principale figura del campo artistico, Ottavio Semmino. Ottavio Semmino può essere considerato uno tra le principali personalità artistiche della seconda metà del Cinquecento e in questa occasione affrescò una superficie tra facciata ed interni pari a circa 320 metri quadrati. Bene, come potete notare in virtù anche della difficoltà di saper conservare un affresco esterno, oggi noi possiamo osservare circa 175 metri quadrati. La facciata però con le sue straordinarie decorazioni doveva assolutamente essere uno tra i più alti esempi di facciate affrescate in tutta Genova. In questa circostanza il Soprani, uno tra i principali biografi del Seicento, se non il principale, narra un evento più che curioso. Quando Giulio Cesare Procaccini, uno tra i massimi esponenti della pittura barocca Lombarda, giunse a Genova per visitare le magnificenze artistiche della Superba, in quella circostanza quando arrivò di fronte al palazzo esclamò «Voi avete si bella opera di Raffaello e non avete smania di farmela vedere». Ebbene, questo ci permette di comprendere cosa doveva essere la facciata. Una facciata che doveva avere dell'incredibile e che, pensate bene, funse da esempio per altri palazzi. Infatti nel 1571 Pietro Vivaldi, un nobile genovese, richiese che la facciata del proprio palazzo venisse affrescata sul modello di squarciafico e ancora Francisco Pagano, un nobile spagnolo, chiese che il proprio palazzo in Spagna fosse abbellito con dei battiporta uguali a quelli che aveva visto presso il palazzo del Marchese de' Squarciafici. Un palazzo assolutamente unico, quindi, che vede la mano del semino affrescare quello che può essere considerato appunto un massimo esempio della facciata affrescata dell'ambito genovese. Ma probabilmente la parte più interessante dell'intero palazzo è l'affresco che troneggia nell'ultimo piano, un affresco che riprende nell'intera fascia decorativa sotto il tetto, il mito del Ratto delle Sabine, quell'unione forzata tra Romani e popolo dei Sabini che diede l'inizio all'immensa espansione del popolo di Roma. Pensate che questa facciata, quindi, ci permette ben di comprendere come il Procaccini rimase estasiato tanto da paragonarla, appunto all'opera di Raffaello e dovette essere completata prima del 1567, anno nel quale Ottavio Semino venne bandito a Savona per aver ucciso un garzone. Il soprano, infatti, ce lo definisce come un pittore di assoluta bravura, ma caratterizzato da un indole potremmo quasi definire Saturnina, un cosiddetto genio e sregolatezza, che venne appunto bandito dalla città di Genova nel 1567. Ci troviamo all'interno del primo piano nobile di Palazzo Squarciafico, che per la prima volta apre i propri ambienti durante l'edizione dei Rolly Days. Ci troviamo nella sala definita come sala delle scelte virtuose di un eroe, in cui Ottavio Semino affresca delle scene dove l'eroe, rappresentato con questa veste gialla e questo drappo verde che gli scende lungo le spalle, è il protagonista di queste volte a padiglione incorniciate attraverso questi particolari usi dello stucco. Ebbene, tutte queste scene sono caratterizzate da un'illuminazione potremmo dire artificiosa, quasi irreale. Infatti, queste caratteristiche, la disposizione simmetrica delle figure, l'uso di queste tinte cromatiche vivaci ma al contempo chiare e quest'idea di assoluta illuminazione artificiosa possono considerarsi le caratteristiche fondamentali del linguaggio pittorico di Semino e al contempo linguaggio pittorico strutturato proprio su quella maniera tardo rinascimentale che il pittore insieme al fratello Andrea appresero a Roma durante il periodo di formazione della propria attività. Ebbene, questa sala quindi ci permette proprio di comprendere l'unicità e la particolarità di un artista che può assolutamente essere considerato uno tra i principali artisti della seconda metà del Cinquecento Genovese. Ci troviamo all'interno della secondo ambiente del primo piano nobile di Palazzo Squarciafico, un ambiente che è denominato sala delle storie di un eroe o storie dei latini, qual'iconografia è ancora incerta. Quest'ambiente però ci permette di osservare una distinzione rispetto alla stanza precedente. Infatti il linguaggio utilizzato per affrescare questi ambienti è un linguaggio sì che si richiama allo stile di Ottavio Semino ma realizzato con una pacatezza e una ieraticità di toni che in un certo qual modo si distaccano dalla vivacità e in particolar modo dalle figure languide e sinuose tipiche di Ottavio. Ebbene, questo è ben evidente in particolar modo nel riquadro centrale dove è rappresentato un eroe al cospetto del re e lo stuolo figurale intorno all'eroe risulta però affrescato con una pacatezza e al contempo una staticità di pose assolutamente unica e differente rispetto alla più dinamica scena degli ambienti precedenti. La particolarità inoltre di questa sala risiede nei quattro stemmi araldici che compaiono lungo i quattro angoli della stanza, stemmi che rappresentano i casati che ebbero nelle varie successioni dinastiche il possedimento di questo palazzo. Abbiamo lo stemma degli squarciafico, degli spinola, dei doria e degli invrea, tutte quattro casate che in un certo qual modo cambiarono le sorti di questo palazzo.